quindi l'iscrizione adesso è tutto digitale e quindi certo a livello professionistico devi avere l'entrata l'entrata ci vuole il secretario ci vuole all'organizzazione ma troppo e vabbè il mondo è perso e vanno poi ci sono le mamme il gruppo arriva dopo la volata del gruppo una discussione di quella che ha vinto la volata del gruppo perché è arrivato prima lui la storia più bella l'ho avuta io i primi tempi che facevo ero qua che è la partenza e chi è la e su e giù certamente mi chiamano lì via col bilano c'è un casino c'è gente c'è una che vuole passare tutti i costi allora ti entra qua e va giù e gli dico signore non è che sei bisogno chiamo il vigile e facciamo uno è andato al cimiterio e portagli giù dal mio obbio no, si lamentava uno è andato, quella è una delle discussioni più belle che... non è andato bisogna dirlo di una notazione allora dighine che fai, fermi che cosa d'ora e vado via, dico dentro dico lo devo fai Ma fanno un giro, due giri in partito? C'è il giro piccolo da 10 km e c'è il giro grande da 20 km. Ok, no perché c'è in giro mio figlio ma non so se è partito da quello piccolo o dal giro grande. Ma ho visto che i bambini ce n'erano che sono partiti dopo 5-6 minuti. Comunque ci sono tre davanti per i bambini piccoli, ce ne sono due all'interno e c'è dietro che li tengono sotto controllo. I bambini non si perdono, non si perdono i grandi, non essendo competitivo ma diventano competitivi.